Buonasera a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare vi do il benvenuto in questo nuovo video di pillole immobiliari in questo caso ogni tanto all'interno dei nostri tantissimi video degli immobili e quindi degli appartamenti delle case delle ville che presentiamo tramite video mi fa piacere appunto inserire qualche argomento che può essere di interesse per coloro che si avvicinano al mercato immobiliare che possono essere acquirenti o come in questo caso di questo video coloro che vogliono vendere la loro proprietà il video parte con una domanda quindi qual è il motivo per cui non riesco a vendere il mio appartamento la mia casa la mia villa o il mio terreno o in generale il mio immobile chiaramente è una domanda che fa passare notti insonni a tanti proprietari di casa io su questo ho sviluppato una regola che si chiama la regola delle tre P che sono prezzo pubblicità e procedura quindi sono tre fattori dove il 99 per cento dei proprietari soprattutto coloro che si diciamo prestano si apprestano al fai da te quindi a provare a vendere la propria casa da soli cade quindi sono i tre fattori più importanti il primo il prezzo ovvero fare il corretto prezzo di un immobile è qualcosa di molto tecnico e che considera da una parte gli acquirenti e da una parte il valore reale dell'immobile non è mai una cosa sola delle due quindi fare il corretto prezzo non vuol dire svendere non vuol dire sovrastimare vuol dire fare il corretto prezzo così come quando andate all'interno di un negozio e guardate un articolo vi accorgete subito se il prezzo che percepite per quello che voi state cercando è quello corretto oppure è un prezzo che non è stato calcolato sulla base del potenziale acquirente di di quell'articolo quindi fare un prezzo di un immobile è una procedura che un professionista è in grado di fare perché ha una vasta esperienza e soprattutto ha una conoscenza tecnica noi ad esempio come metropolis abbiamo un team proprio specifico che analizza il prezzo tecnicamente in relazione al suo valore oggettivo e al valore in relazione al potenziale di clientela che quell'immobile ha questo è un fattore che poi in caso di appuntamento potremo spiegarvi in modo approfondito è molto interessante quindi fare il corretto prezzo il secondo fattore è la pubblicità una pubblicità fatta male foto fatte male o nel modo scorretto non fare tutte le azioni di marketing che portano l'immobile ad essere visto dal giusto cliente non semplicemente essere buttato sul mercato ma essere messo un po come in una boutique nel posto giusto con la giusta cornice con la giusta confezione quindi pubblicizzare un immobile vuol dire mostrarlo per quello che è valorizzandone i pregi ma anche sottolineando i fattori che potrebbero essere squalificanti per alcuni clienti così da poter avere il cliente corretto che vede l'immobile sui canali corretti oggi abbiamo un marketing innovativo la tecnologia di marketing è cambiata tantissimo negli ultimi anni soprattutto con l'avvento dei social network possiamo andare a colpire la giusta fascia di pubblico con la giusta targetizzazione ma ci vuole veramente un team e un'equipe tecnica specifica per questo tipo di lavoro e posso garantirvi che è una cosa che da privato è impossibile fare quindi uso la parola impossibile perché conosco molto bene come funziona questo aspetto quindi è davvero importante il marketing fare le foto corrette nel modo giusto rappresentando l'immobile esattamente nel modo in cui lo vogliamo mostrare per quello che è con i giusti dati una descrizione fatta nel modo corretto non troppo prolissa non troppo corta con i dati che il cliente vuole conoscere questo ci permette di attrarre il cliente giusto il terzo fattore è la procedura quindi c'è una procedura tecnica che veramente ci potrei scrivere un manuale per poter portare una vendita a buon fine che non è solo pubblicizzare l'immobile in qualche modo e sperare che arrivi qualcuno che lo compri ma è proprio seguire tutte le fasi che partono dal momento in cui il cliente giusto arriva fino al momento in cui si ha la possibilità di andare davanti a un notaio e firmare la compra vendita e vi posso garantire che è come passare su un filo finissimo sopra un abisso quindi non è qualcosa che si può fare improvvisandola è qualcosa che anche coloro che lo fanno da tanti 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 anni spesso trovano difficoltà quindi figuratevi qualcuno che non l'ho mai fatto che non fa questo di professione quindi il consiglio è la regola delle tre p quindi il prezzo corretto la pubblicità e il marketing fatti in modo professionale e allineati ai moderni standard di marketing quindi indicizzazione è tutto uno sviluppo di tecnologia legata proprio alla vendita dell'articolo in relazione al pubblico che cerca quell'articolo e la procedura quindi affidare la vendita a qualcuno che è in grado di portare a termine una procedura molto complessa e molto appunto lunga anche se vogliamo in termini di quantità di azioni da svolgere che il professionista riesce a fare però in un arco di tempo decisamente ristretto rispetto a quello che potrebbe richiedere a qualcuno che non nemmeno neanche la conosce questa procedura quindi le insidie dalla vendita da privato sono veramente tantissime vi sconsiglio vivamente di bruciarvi magari quei pochi clienti che oggi qualificano e che possono permettersi di acquistare il vostro immobile proprio per cercare un fai da te che a mio avviso e dalla mia esperienza ve lo posso consigliare altamente diciamo controproducente affidatevi a un vero professionista ovviamente Metropolis è a vostra disposizione ma in ogni caso il consiglio di affidarvi a qualcuno che sa fare questo e che lo fa e che ha dimostrato negli anni di essere competente nel farlo con dei risultati oggettivi e osservabili ovviamente come vi dicevo Metropolis è a vostra disposizione tramite il sito che vedete qui sotto dove trovate tutti i nostri contatti o il numero di telefono potrete contattarci per avere appunto un incontro e valutare insieme la migliore strategia che tenga conto delle cose che vi ho appena detto per poterlo commercializzare. Io come sempre vi ricordo anche di mettere il like al video e di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle novità di Metropolis e chiaramente vi ringrazio per aver guardato il video fatemi sapere nei commenti se avete delle domande o cosa ne pensate di questa mia decodificazione della motivazione per cui un immobile non viene venduto vi dico che in questi anni ho delineato questi tre denominatori perché sono veramente i tre punti dove ogni proprietario cade e poi sui quali si dispera perché non riesce a vendere l'immobile c'è una soluzione e quindi ripristinando questi tre punti si può arrivare in tempi ragionevoli alla vendita soddisfacente al prezzo migliore di mercato e alle migliori condizioni quindi grazie ancora per essere stati con me in questo video rimaniamo a vostra disposizione e ci vediamo al prossimo video